non so cosa sia succedendo a ciccio forse si è disconnesso no no io ci sto senti se tu vedessi quello che vedo io ciccio no no ha fatto pure a me un po' avanti e indietro il coso no no tu non fai capire a cosa sto assistendo io in questo momento e infatti non si sa che cazzo è successo vabbè però devo